Le avevamo incontrati in occasione della chiusura dell'ipermercato ExoChan di Parco Leonardo. Avevamo raccolto il loro grido di rabbia e la loro disperazione per essersi trovati all'improvviso, dopo decenni di servizio, a casa. Sono i lavoratori licenziati dalla catena di grande distribuzione per i quali il futuro sembrava non presentare più alcuna chance. Ora invece, grazie all'intervento dell'assessore al lavoro del comune di Fiumicino, Anna Maria Anselmi, e a quello dei sindacati, sono stati assunti in blocco nel nuovo punto vendita Emisfero, all'interno di Centro Leonardo. Possiamo dire che questa volta la storia ha avuto un lieto fine, grazie a un bel lavoro sinergico fra il pubblico e il privato e i sindacati. Siamo riusciti a tutelare i loro posti di lavoro e a tutelare persone che erano entrate in Oshan da ragazzini e avevano fatto tutto il loro percorso di crescita lavorativa presso il centro Oshan, che avevano visto tutte le loro speranze venire meno proprio con la chiusura del 30 marzo. In primis io ho contattato la proprietà di Centro Leonardo, grazie a loro, al loro intervento, a loro disponibilità, sono riusciti a mettermi in contatto con la nuova azienda, quella di Emisfero. Si sono resi disponibili e devo sottolineare anche se non avevano l'obbligo di farlo. Siamo riusciti ad ottenere questo bel risultato che ci fa veramente piacere. Una storia lieto fine, quindi purtroppo però il quadro generale del territorio di Fiumicino per quanto riguarda il lavoro è piuttosto preoccupante. Cosa sta succedendo? Quello che ci preoccupa in questo momento è anche il rischio gravissimo che sta alleggiando su tutti i contratti di lavoro di questi dipendenti. Perché se ITA si permetterà di non rispettare il contratto collettivo nazionale, di applicare dei contratti atipici, diciamo, così vorranno poter fare le altre società e arriveremo all'anarchia e quindi praticamente a rinnegare lo statuto dei lavoratori e quindi i diritti stessi di tutti i lavoratori. Grazie.